Ciao ragazzi, oggi faremo il gioco delle 4 monete nel sacchetto Quattro monete Un sacchetto e un bussolotto Prendiamo le 4 monete e le mettiamo nel bussolotto Se vede bene il bussolotto? Le mettiamo bene nel bussolotto In genere le maghi cosa fanno? Prendono le monete e le mettono nel sacchetto Ah, prima cosa è controllare che il sacchetto sia vuoto Che non ci sia niente dentro In genere le maghi prendono le monete e le mettono nel sacchetto E si nascondono nel fare questo Però così si sono capaci tutti Quindi voglio cercare di fare in maniera naturale E alla luce del sole il trucchetto Vediamo che le monete passano dentro il sacchetto Una, due, tre, quattro monete Volendo si può anche controllare Potete anche controllare il sacchetto Vediamo che non ci sia nulla Quindi controllate il sacchetto Abbiamo visto che non c'è nulla nel sacchetto No, a me non c'è bisogno di controllare Non c'è nulla nel sacchetto Prendiamo le monete Quattro monete Nessuna moneta Due monete Una moneta, due monete Una mano, due mani Una moneta in una mano Una moneta nell'altra Due monete, nessuna moneta Una moneta in una mano Una moneta nell'altra Nessuna moneta, due monete Ciao ciao Grazie a tutti